Il nostro obiettivo è quello di lanciare birra messina e birra messina a cristalli di sale a livello italiano in tutta la nazione e quindi abbiamo dato una nuova veste a birra messina e birra messina a cristalli di sale un omaggio ai colori della Sicilia, la Sicilia, quello che questa terra rappresenta e l'accordo che abbiamo fatto con i 15 è un accordo di lunga durata nel quale loro produrranno birra messina a cristalli di sale e nel quale noi commercializzeremo anche le ottime birre che loro propongono e producono in Italia attraverso le nostre reti commerciali.